Siamo qui al Terre Antiche con? Con Agostino De Carluccio, uno dei due proprietari del locale. Siamo alla pre-vigilia di Natale e abbiamo mangiato veramente delle cose squisite, dai primi, secondi, antipasti, insomma tutta una roba a 5 stelle. Ma spiegaci un attimino come senti il Natale qui al Terre Antiche. Il Natale per noi qui lo sentiamo molto fortemente. Ovviamente, essendo un locale a base di carne, il periodo invernale per noi è un periodo che si lavora molto di più proprio per il fatto che lavoriamo con la carne, quindi con cacciagione e con quant'altro. I primi piatti sono molto più forti d'inverno che d'estate, quindi il periodo di Natale per noi... Infatti poi la tua carne veramente si taglia con un grissino, cioè è veramente buonissima, è una cosa indescrivibile. E poi c'erano anche i zampognari, insomma, che allietavano questa atmosfera, rendevano un po' caldo l'ambiente. Bello, simpatico, una bella iniziativa. Sì, io solitamente, diciamo, nel nostro locale vengono poche persone perché ci troviamo poi in una zona limitrofa al centro. Però i zampognari è una cosa che gradisco e che sono io proprio ad invitarli nel periodo invernale perché la vedo proprio una posteggia natalizia. E poi, guarda, i tavoli messi così vicino fanno sì che si attua anche con il fenomeno della socializzazione tra le persone ed è una cosa carina. Io personalmente ho fatto amicizia anche con una signora che ha compiuto gli anni, una signora molto gentile che poi ci ha offerto anche una torta squisita. Insomma, bello. Si unisce la qualità delle portate all'amicizia e il fatto di socializzare in un ambiente veramente esclusivo. Io devo fare un ringraziamento particolare alla mia clientela perché diciamo che il 90% della mia clientela è veramente molto molto socievole. E quindi quando viene qua si comporta molto bene con noi, con i ragazzi, anche se a volte anche noi sbagliamo come un po' tutti i locali. Però sono sempre, diciamo, molto... Sono belle persone. Sì, sono belle persone. Sì, 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 belle e confermo. E poi anche i vini che comunque suggerisci perché c'è anche una bella cantina fornita, quindi sono tutti abbinati alle tue portate, insomma, ai tuoi piatti che proponi. Che devo dire che sotto questo periodo sono ancora più valorizzati perché fatti anche con amore, con quell'amore natalizio che tutti ci aspettiamo di trovare. Non solo sotto l'albero ma anche a tavola, giusto? La scelta dei vini in Italia, dei vini italiani, dei vini esteri ormai è esagerata. Quindi noi cerchiamo, purtroppo non possiamo averli tutti, però cerchiamo di selezionare secondo i nostri gusti e secondo, diciamo, varie recensioni dei vini che possono poi un po' piacere a tutti i palati. Quindi non solo... quindi da un classico vino da tavola, sempre di buona qualità, fino ad arrivare a dei grandi vini. E poi confermo, con il caminetto acceso, un buon bicchiere di vino, della carne arrostita, fatta in una certa maniera di qualità, perché comunque è veramente eccezionale. Insomma, si passa una bella vigilia e un pre-vigilia di Natale, diciamo, a 5 stelle. Molto particolare, molto suggestivo all'insegna della qualità, perché qua penso che sia proprio la prerogativa principale offrire la qualità alla clientela e comunque in un ambiente esclusivo. Cerchiamo sempre di fare il massimo e cerchiamo di dare sempre tutto ciò che un cliente, quando esce per passare una serata, può volere dalla serata stessa. Quindi il camino, il parcheggio, il servizio, la buona cucina, l'ambiente, un po' tutto. E io, da persona soddisfatta, ma non rimbossata, perché comunque te li meriti tutti, insomma, tutto il tuo compenso. Vi saluto, vi auguro un buon Natale, speriamo di rivederci qui al Terre Antiche, baronissi, giusto? Quindi siamo baronissimi, esatto, siamo tutti dei baronissimi di qualità, insomma, a 5 stelle. Vi aspettiamo, buon Natale a tutti, amici. Auguri di buon Natale. Buon Natale.